ci siamo ragazzi aiutiamo johnny cage a battere kenshi takashi avete capito in questo secondo capitolo della modalità storia di mortal kombat 1 johnny deve battere kenshi non sarà facile ma con il nostro aiuto ce la potrà fare è sempre solo johnny ma riesce a combattere ce la fa è sempre fortissimo mi sembra che abbiamo finito e johnny ha sconfitto kenshi vi devo salutare arrivederci a tutti iscrivetevi al canale via la casa via le regole